La solidità difensiva è una grande iniezione di fiducia a tutta la squadra. Quando hai un assetto difensivo come quello di oggi, che ti permette di non subire i gol, di non concedere niente agli avversari, tutta la squadra ne trae beneficio. Non ci resta più molto tempo. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!